E ora invece parliamo del futuro della sanità in Molise, soprattutto in relazione alla razionalizzazione dell'offerta sanitaria prevista dal programma operativo. Vediamo allora quali sono gli interventi previsti. 13 milioni ciascuno per i presidi ospedalieri di Isernia e Termoli, 5 milioni per Agnone, 4 a Venafro e 3 a Larino. Sono quasi 40 milioni di euro che il piano di investimenti sanitari previsto dalla Regione destina alla ristrutturazione e alla riorganizzazione delle strutture fuori dal capoluogo. Obiettivo del piano? Il riassetto dell'intera rete al fine della razionalizzazione dell'offerta sanitaria prevista dal programma operativo 2015-2018 nell'ambito del piano di rientro dal deficit in sanità. A Isernia e Termoli sono previsti ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e di sicurezza. Lavori che la proposta di accordo prevede canterabili a partire da inizio 2019. Stessa data per gli interventi di completamento del nuovo ospedale di Agnone. Ospedale che dovrebbe essere dotato di un servizio di emergenza urgenza con un presidio medico per un primo intervento e un'attività di medicina generale per l'assistenza e cura di pazienti. Oltre alla possibilità di ricoveri per cure di maggiore durata e che per la stabilizzazione di chi dovesse poi essere trasferito a ospedali di livello superiore. Cantierabilità a giugno 2019 per gli attuali presidi ospedalieri di Larino e Venafro che dovrebbero essere riconvertiti in strutture territoriali polivalenti capaci di offrire, oltre a un punto di primo intervento, attività ambulatoriale specialistica e altri servizi sociosanitari. L'obiettivo è di offrire filtro e supporto alle attività ospedaliere. Il decreto del Commissario alla Sanità e la proposta di accordo di programma legata che contiene i dettagli degli interventi sono stati trasmessi ai Ministeri della Salute e dell'Economia. E salvo richieste di eventuali adeguamenti o modifiche che dovessero arrivare da Roma dai Ministeri dovrebbe arrivare la convocazione per la firma che darebbe appunto il via agli interventi, firma che molto probabilmente toccherà alla prossima amministrazione regionale.